Ben ritrovate sul mio canale YouTube e siamo nel mese di marzo. Prima pagina del mese di marzo con il journal Tu Donna e questa è la pagina. Adesso vi spiego come procedere. Tenete presente che la parola che ho utilizzato è attenzione. Attenzione vuol dire anche nelle piccole cose, vuol dire anche a fare il nostro journal. Prestate attenzione, metteteci quel momento in più, quella pausa che vi prendete per respirare, per scrivere, per inserire un pensiero, una foglia, un fiore, quello che vi piace. Ma prestate attenzione. Attenzione anche tutti i giorni, anche quando cammino per strada. Non siate superficiali. Date quell'attenzione, quel momento, quel modo di vivere un pochino più consapevoli. Con attenzione. Bene, proseguiamo. Ecco la pagina di marzo, la prima pagina di marzo con la parola attenzione. Attenzione. La usiamo noi l'attenzione? Facciamo veramente attenzione? Ho usato come base i pigmenti che io li adoro, quindi ho prima passato la polvere del pigmento e poi con l'acqua ho spruzzato per far sì che ci fosse questa, questo amalgama di colore dal giallo e il viola. Siamo a marzo, la primavera sta arrivando, quindi ho usato questi colori più tenui. Ho usato degli stampi, molto belli questi stampi che ho fatto arrivare, mi piacciono tantissimo. Anche qui ho usato lo stampo, ma praticamente ho usato il tampone, anzi scusate, questo è uno stencil, è un piccolo stencil e con il tampone ho passato sopra lo stencil creando la forma. Ho usato l'uncinetto, quindi ho fatto questi due piccoli pezzettini, una specie di tronco, chiamiamolo così, con un fiore. Anche qua, attenzione! Nel fare tutti questi particolari ci vuole attenzione, anche in quello che è il nostro modo di creare. Queste foglie sono fatte con una dima e poi le ho incollate. Questa fogliolina e anche questa sono fatte a mano, ricamate a mano, punti a mano, piccoli segni con il pennarello. Attenzione! Sempre attenzione! Grazie per la vostra attenzione, seguitemi sui social, avrò parecchi incontri questo mese di marzo, farò dei workshop presso alcune associazioni di Monza, quindi chi è nei dintorni è la benvenuta, seguitemi e vedete dove mi sposterò. Mettete un like, ho una vostra impressione. diciamo che il contribuire, collaborare, portare un attimo di pensiero anche in quello che io vi faccio vedere è un'attenzione, un'attenzione per voi e per me che la ricevo. Grazie, alla prossima!